Mark Bloch, a cui è molto vicino, nonostante l'età, gli anni che sono passati, il nostro Alessandro Barbero ha incominciato un suo libro, a lui carissimo, e spiegherò subito perché, con una frase splendida, che io so perché poi mi sono documentato non avendo televisione ma in internet, so che Alessandro Barbero ha usato questa frase di Mark Bloch per presentare un suo filmato, una sua lezione su Bloch e la frase, ce ne sono due di frasi e la prima dice così, papà spiegami allora a che cosa serve la storia, così un giovinetto che mi è molto caro interrogava qualche anno fa il padre uno storico, incomincia quasi con la prosopopea e lui stesso e sarà suo figlio quello che gli ha chiesto, lui Mark Bloch, non dimentichiamo non solo un grandissimo storico ma un uomo politico e civile che ha avuto il coraggio di entrare nella resistenza francese nel 1943 e sarà torturato dalla Gestapo per tre mesi e fucilato con una mitraglietta a Lione nel 1944, lui ebreo, lui che tentava di fuggire verso l'America come tanti, come Walter Benjamin e tanti altri in quegli anni. Spiegami che cos'è la storia, ora io non chiederò questo ad Alessandro Barbero, ma intanto lasciamo depositare questa prima frase e il libro che leggerà questo ragazzo è in qualche modo la mia risposta. La seconda frase, molto bella, dice i lettori di Alexandre Dumas non sono forse altro che storici in potenza, dice Mark Bloch e io lascio subito come seconda battuta questa perché aprendo il discorso con tante centinaia e migliaia di giovani che da tutto il mondo, non solo dalla Sicilia e dall'Italia stanno seguendo questa lezione così voluta da Pippo Lomanto, una delle ultime cose che riuscì a dirmi fu si e ti raccomandato il mio tesoro che era la settimana ai studi danteschi, cosa che disse anche a Marilena Larosa e poi mi disse Alessandro Barbero, sarebbe bellissimo se potesse venire a presentare il suo Dante ed eccolo. E quindi grazie Alessandro che è venuto apposta da Torino e domani mattina sarà concorrato da Augias a Roma, quindi veramente una fatica anche fisica doppia. La terza frase, però tre devono essere, è la più bella di tutte, quella che tu usavi per aprire Mark Bloch, la conosciamo tutti ma la voglio rileggere dal testo. Sono gli uomini che la storia vuole afferrare e poi aggiunge una straordinaria battuta, il bravo storico assomiglia all'orco della fiaba, lui sa che dove fiuta carne umana, là è la sua preda. Alessandro, a te il microfono per far venire a galla il senso, per aprire un discorso su Dante, il tuo Dante, di cui adesso parleremo per qualche minuto. Che cosa può significare per uno storico, giovane, oramai famosissimo, che ha aiutato, ha contribuito a far sì che la storia, materia quanto mai importante nelle scuole, perché solo sulle radici del passato si fonda, in fin dei conti, grazie, si fonda in fin dei conti il nostro futuro, radicare nella memoria le cose, però questo fiutare carne umana. Poi ti dirò perché credo che il tuo Dante abbia fiutato carne umana di Dante. Ma io direi questo, Corrado, direi tanto buongiorno a tutti naturalmente, grazie di essere con noi, pochissimi purtroppo in carne e ossa e tantissimi invece nell'etere, come si diceva una volta. Ne fiutiamo la carne, sì, di fatti. Allora, io direi questo, noi storici non studiamo la storia perché è importante e perché è una componente fondamentale della cultura di qualunque società. La studiamo perché ci piace da matti, la studiamo perché è incredibilmente appassionante e anche se non servisse a niente la studieremmo lo stesso. Dopodiché ci capita continuamente, come capitava a Mark Bloch, di dover spiegare a qualcuno che serve anche in realtà, non la facciamo soltanto per il nostro divertimento, per la nostra passione. Serve anche come una delle tante cose che possono servire per stare meglio al mondo, ovviamente. Non è l'unica, non è quella che ci insegna tutto. Però per stare al mondo bisogna sapere tante cose. Bisogna sapere, oggigiorno, per stare al mondo bisogna sapere come è fatto il pianeta Terra, come è fatta l'atmosfera, che cosa vuol dire lo scioglimento dei ghiacci. Bisogna sapere delle cose che non rientrano nell'ambito nostro di storici. E per sapere stare al mondo serve anche moltissimo aver letto tanti romanzi, per esempio. Perché se hai letto tanti romanzi, hai letto tanti esperimenti che un autore ha concepito in provetta, in laboratorio. Se una signora di provincia sposata con un noioso farmacista si innamora all'improvviso di un bel giovanotto elegante. Cosa succede? Ecco, allora ci sono tanti modi per arricchire il nostro modo di stare al mondo. Uno di questi è la storia. La storia è diversa dalla letteratura appunto in quanto la letteratura propone degli esempi inventati, costruiti a tavolino. E questo da un certo punto di vista è un grande vantaggio. E invece la storia propone degli esempi veri. La storia è in sostanza il catalogo di tutte le cose che noi esseri umani abbiamo fatto da quando abbiamo cominciato a parlare. O meglio, da quando abbiamo cominciato a scrivere. Perché prima che imparassero a scrivere i nostri antenati sicuramente parlavano già, devono aver parlato per millenni, per decine, senza scrivere niente. Parlavano e noi non sappiamo cosa dicevano. L'uomo di Neandertal probabilmente parlava, ma va a sapere cosa diceva. Da quando gli esseri umani hanno cominciato a scrivere, noi possiamo comunicare con loro, possiamo sentire la loro voce. E appunto lo storico è quell'interprete il cui mestiere consiste nell'assicurare che rimanga un filo che collega noi che viviamo oggi con tutti quelli che sono vissuti in quello strano posto che è il passato. Questa mattina da quel video, perché non era qui presente fra noi, ma parlava da questo video dove c'è questa bellissima carezza che una giovane dottoranda Pisana ha disegnato per questa settimana di studiantezzi, chinando la mano alla sua faccia. E Dante che china la faccia a Brunetto Latini lì sotto per accarezzare suo padre, diventando lui padre di suo figlio. Ebbene, questa mattina parlava con noi Guido Tonelli, il grande astrofisico, e fra l'altro ci ha parlato di Neandertal e del fatto che Neandertal non scriveva, non parlava, ma disegnava, per esempio. Neandertal e poi il Sapiens, diciamo, sui 70-80 mila anni fa hanno incominciato a disegnare. Per lasciare tracce, diceva, perché il futuro abbia Roland Barthes, parce qu'il faut durer un peu plus que savoir, bisogna durare un po' più della propria voce. Ed ecco allora la scrittura, ecco la traccia, ecco la letteratura. Sai chi mi ha fatto venire in mente mentre parlavi, oltre a Alexandre Dumas, che Bloch citava e che è uno che si informava anche in biblioteca, mi ha fatto venire in mente un grande scrittore spagnolo, Javier Marias, che ha scritto alcuni grandi libri del nostro tempo. E quando gli diedero un premio Galliegos per il miglior scrittore in lingua spagnola, lui fece un discorso su un tema molto vicino a quello che hai toccato, e cioè che cosa è la letteratura e che cosa è la storia. E disse, in romanzo la letteratura racconta le cose che non sono state e le fa essere, mentre la storia racconta le cose che sono state e le fa continuare ad essere. Però lui diceva che la memoria della letteratura e la memoria della storia in qualche modo si incontrano nel far essere quello che non c'è mai stato di fatto. E aggiungeva, Amleto c'è più a lungo di Shakespeare, Amleto è tra noi e Shakespeare non c'è più. E così tutto ciò che gli storici scrivono, strappandolo all'oblio, continuerà ad essere nel futuro. In qualche modo dunque fra Dante e uno storico magari del suo tempo, al di là della qualità e dell'altezza d'ingegno, c'è uno stesso gesto, uno stesso movimento, una stessa istanza? Bisogna dire che fare storia sarebbe un'attività disperante se noi dovessimo puntare tutto sul fatto che le cose rimangano, che la memoria rimanga. Perché invece quando ti occupi di storia in modo professionale, la prima cosa di cui ti accorgi è che poco rimane. E in realtà, mentre è molto bella l'idea che l'umanità crea delle cose e che la forma più alta di vita consiste nel partecipare a questa creazione, nel lasciare un'impronta, nell'aver aggiunto qualcosa, che poi credo sia l'idea di base del film L'attimo fuggente per esempio, siamo tutti dentro questo grande spettacolo, anche tu puoi contribuire in qualche modo. Però la verità è che lo storico sa che invece le cose poi spariscono, le cose si perdono, le cose si dimenticano. Allora non dobbiamo metterci in una prospettiva metafisica dicendo queste cose sono per sempre, non sono per sempre. E lo storico naviga attraverso i millenni e rivive le vite di tante altre persone, però poi è inchiodato nel proprio tempo, nella propria unica vita. Lo storico prova a dire al proprio tempo di quello che è avanzato finora, di quell'enorme naufragio che è il passato. Ecco, un filosofo potrebbe essere tentato di dire il passato è un naufragio, il passato è un deserto, si è perso quasi tutto, quasi tutte le persone sono morte senza lasciare nessuna traccia. E sarebbe anche vero. Lo storico dice sì, però noi possiamo affrontare la sfida di andare a vedere se qualche traccia è rimasta. E su quelle tracce noi, per noi, lo facciamo per noi, per noi oggi, affrontiamo questa sfida di diventare dei detective del passato che provano a ricostruire dei pezzi di verità che c'è stata. Poi ce lo giustifichiamo dicendoci che serve perché appunto ogni esempio che abbiamo su chi sono gli esseri umani, su come si comportano in una data situazione, su come in passato hanno affrontato una certa sfida, ogni esempio che abbiamo serve a rendere più ricca la nostra società. Dopodiché però, appunto, io credo che pochi poeti abbiano scritto poesie dicendosi lo faccio per rendere più ricca la nostra società. E quelli che l'hanno fatto si sono suicidati alla fine, come Mayakovsky, no? Ecco. In realtà lo fai perché quello è il tuo modo di stare al mondo. Quello è la cosa che ti riempie di passione la vita e che ti fa vibrare. E poi appunto sapere che non è solo un tuo piacere privato, ma che è una cosa che ha delle ricadute su tutti gli altri. Quello dà enormemente più peso e aggiunge al piacere. Ecco. Però poi noi appunto, noi sappiamo che mentre la verità esiste, però la verità viene anche dimenticata. E che la memoria non è la verità, o meglio, la memoria è una verità privata, personale, che confligge con la verità di un altro. E tuttavia noi ostinatamente diamo la caccia a questa verità, perché tra le grandi frasi di Mark Bloch, l'unica che tu non hai citato naturalmente è quella che lui ha voluto scrivere sulla sua tomba. Lui voleva che sulla sua tomba ci fosse scritto, in latino, di lexit veritatem. Ha amato la verità. Perché? Non c'è bisogno di sapere perché. Perché la verità va solo amata. È il discorso che Roberta De Monticelli, ieri e oggi, ha fatto anche in dialogo con Guido Tonelli. Quello di che cosa sia la verità, la verità della scienza, come la percepiamo. Un'istanza di verità c'è sempre e comunque. Cioè è un telos, andare verso la verità. Anche se poi le verità che si configurano sono da verificare volta per volta. Ed è qui l'operazione dell'astorico. Bella vita e guerre altrui di Mr. Pai, il gentiluomo, 1996. Premio strega. Credo fosse la prima volta che un premio strega andava ad un giovane, ancora più giovane di adesso, storico. Scrittore di storia. Scrittura e storia. Ti ho lanciato lì l'idea di Javier Marias. La storia fa essere le cose che sono state nel tempo, ancora in futuro. E la letteratura fa sì che le cose che non sono mai state siano. Ancora una parola su questo. Tu hai scritto diversi romanzi. Ho solo ricordato il primo. Il primo non so, ma il più importante per chi ti legge. Sono tantissimi. Ragazzi, non ascoltate soltanto il professor Berbero in internet. Leggete i suoi libri, perché la lettura, proprio con l'operazione che Alessandro Berbero stava adesso indicandoci, è un'operazione etica ed estetica insieme. Entrare nella bellezza, come siamo noi in questo oratorio in questo momento, forse non salverà il mondo, come diceva Dostoevsky, ma certo ci trasforma dentro. E ci permette magari di diventare migliori per cambiarlo questo mondo e per non dimenticare nei presupposti. Ancora una tua parola sopra il rapporto tra la scrittura di romanzo e scrittura di storia. Perché, lo dirò fra un momento, questo libro è anche scritto, come tutti gli altri tuoi. Io non pensavo che questo peccato di gioventù mi sarebbe stato rinfacciato oggi, costringendomi a fare i conti con una verità così lontana. No, fuori di scherzo. Lo storico è abituato a avere a che fare con le parole. Ci sono mestieri in cui devi avere a che fare con i numeri e ci sono mestieri in cui devi avere a che fare con le mani e mestieri in cui devi invece saper usare le parole. E molti di noi probabilmente sono programmati per questo. Perché se io avessi dovuto avere a che fare con i numeri come mestiere sarei morto di fame prestissimo, credo. Chi lo dice? E invece le parole, noi siamo nati con una testa fatta in modo tale che le parole ci vengono facili. Lo storico deve saper usare le parole perché, intanto perché lo storico normalmente se sopravvive è perché insegna all'università e quindi avere davanti un pubblico e spiegare delle cose, farle capire e farti ascoltare, farti seguire dalle persone che ti guardano. Ecco, questo fa parte del nostro mestiere. Ma poi la storia è uno degli ambiti in cui i risultati delle tue ricerche li devi comunicare con le parole e li devi comunicare, come dire, con delle strategie retoriche. Perché io credo che anche i medici che lavorano al vaccino contro il Covid quando l'avranno scoperto pubblicheranno degli articoli fatti in piccola parte di parole, inglesi, e in parte di numeri e di calcoli e saranno articoli di pochissime pagine dove uno non cercherà la maestria nell'uso delle parole, evidentemente. Ma se io ho fatto una ricerca, anche una ricerca sull'argomento più lontano dagli interessi del grande pubblico, ma su una cosa che invece interessa a chi sta lavorando in quel momento da specialista, io ho passato quasi tutta l'estate a occuparmi del funzionamento del sistema feudale nella Valle d'Aosta del XIII secolo. Non c'è assolutamente niente di più appassionante di questo. E conto di passare ancora molti anni a occuparmi di quello che è realmente la cosa che mi dà un orgasmo che molte altre cose non mi danno. Dopodiché queste ricerche verranno tradotte in parole. E in queste parole io dovrò dimostrare, se sono fortunato potrò dimostrare qualcosa. E invece, per come vanno le cose di solito, dovrò provare a convincere i lettori, cioè gli altri specialisti come me, che ho ragione, che quel documento vuol dire davvero quella cosa lì. Ecco, quindi noi siamo per mestiere abituati a usare le parole e abituati a usarle in modi diversi, anche perché capisci molto presto che un conto se stai scrivendo, ti stai rivolgendo ai tuoi colleghi è un conto se invece hai piacere di comunicare delle cose a un pubblico più ampio e di farti capire, insomma. Quindi noi storici siamo abituati a usare le parole e a scrivere. E allora viene abbastanza naturale in realtà a un certo punto dire ma io so che si possono scrivere cose molto diverse. E' diverso scrivere un articolo specialistico per l'archivio storico italiano, scrivere un libro per il grande pubblico che andrà nelle vetrine delle librerie, scrivere un articolo di giornale, scrivere un manuale scolastico e allora perché non scrivere un romanzo? Fino al 1980 la risposta era perché i tuoi colleghi ti guarderanno dall'alto in basso. Molte invidia. Poi nel 1980 è uscito Il nome della rosa di Umberto Eco, ha avuto un immediato successo, è diventato un best seller internazionale e di colpo si è scoperto che per uno studioso, per un accademico, non è degradante anche scrivere dei romanzi. Anzi affina le armi, affina il bisturi della... Questo c'è un spingersi molto, però insomma sì, sì, tutto sommato diciamo, d'accordo, in ogni caso significa muoversi sulla stessa tastiera, significa sperimentare ancora un'altra possibilità, ancora un altro modo di usare la parola e di raccontare la storia, che poi è una delle nostre attività. Noi non ci limitiamo a raccontarla, la analizziamo anche in modi tali che soltanto lo specialista sarebbe in grado di seguirci e di interessarsi a quello che stiamo dicendo, però oltre ad analizzarla la raccontiamo anche appunto quando c'è l'occasione. Senti Alessandro, io ho sempre avuto curiosità, per effetto non ci vediamo da tanto tempo, ci siamo scritti, letti, ma io ho t'ho conosciuto che proprio ragazzino, con il tuo maestro Giovanni Tabacco, eravamo a Bagni di Lucca, un convegno sulla cavalleria e poi verremo su questo, perché adesso entriamo in Dante, entriamo con una battaglia, Campaldino, Dante a cavallo, ma una curiosità mia, Bella vita e guerre altrui di Mr. Pai, il gentiluomo, ma io nell'orecchio ho quel Tristam Shending, gentiluomo inglese, di Lawrence Stern, cioè uno dei più grandi scrittori, non solo del Settecento, ma che ha dato tanto al Manzoni del Fermo e Lucia, a Gadda, insomma, che ha segnato una linea, un effetto Stern, diceva Mazzagurati, e così, in qualche modo, ti appassiona il romanzo inglese del Settecento, che ha anche tanti aspetti storici, e poi aprirà al grande romanzo storico ottocentesco, sei un lettore anche di Dumas, o dei romanzi storici francesi, o è un segreto che non vuoi svelare? No, no, qui siamo qui per dire la verità, e per svelare tutto, al tuo buon cuore, ben inteso, ecco, tutto quello che mi chiederai, io risponderò, sappilo, poi, allora, no, certo, vita e opinioni di Tristram Shen, di Gentiluomo, il mio romanzo, di cui parlava Corrado Bologna, è un romanzo ambientato all'inizio dell'Ottocento, ma mentre noi, posteri, siamo abituati a pensare alle varie epoche, ognuna con la sua identità, e quando finisce un'epoca ne comincia un'altra, e nel Settecento hanno la parrucca e il tricorno, e nell'Ottocento invece hanno il cilindro e il pizzetto, ecco, poi quando fai lo storico a un certo punto ti accorgi che non è mica così, perché guardi le stampe del tempo di Napoleone, e vedi che le stampe ti dimostrano che la brava gente andava ancora vestita con la parrucca, e con il tricorno e i calzoni corti anche al tempo di Napoleone, le epoche trapassano lentamente l'una nell'altra, e quindi il mio romanzo ambientato all'epoca di Napoleone in realtà è un romanzo ispirato al gusto dei viaggi settecenteschi, certamente, è ispirato al gusto di quei viaggiatori settecenteschi che, come dire, sapevano, ma non erano consapevoli in modo volgare, e lo sapevano inconsciamente, di rappresentare una civiltà raffinatissima, di essere ai vertici di un mondo straordinariamente colto e raffinato, e andavano per il mondo con l'agio e la tranquillità e la sicurezza di sé, di chi sa che il suo giudizio è valido, poi magari un altro ha un giudizio diverso, erano quei viaggiatori del settecento, con i quali io sarei in totale disaccordo, che però erano capaci di arrivare davanti alla cattedrale di Notre Dame e dire, ma che vecchiume, ma che brutta cosa, ma che architettura barbara, gotica proprio, roba da barbara, buttiamola giù, facciamo un edificio fatto come si deve, con le colonne, come la Madeleine, ecco, era quella, appunto, è quella incredibile sicurezza di sé che li rendeva però i migliori fra questi autori, sarà stata piena anche quell'epoca lì, di cialtroni e di buzzurri e di ignoranti, però quelli che ci hanno lasciato poi i loro ricordi, le loro lettere, le loro memorie di viaggio, erano gente spiritosa, gente disinvolta, gente che appunto non si stupiva di niente, che viaggiava per il mondo raccontando quello che vedeva. Io sì, mi sono abbeverato di quelle letture, dopodiché devo dire, e ne sono orgoglioso, che io ho scritto un romanzo tutto ispirato al gusto di quei viaggi settecenteschi, ma il mio romanzo era senza titolo. Il titolo con cui il romanzo è uscito e che, come dire, denuncia espressamente il debito verso gli scrittori di viaggio e non solo del Settecento, quel titolo l'ha inventato Aldobusi. L'ha inventato, cioè uno dei grandissimi scrittori nostri, a cui io avevo mandato l'incipit di questo romanzo chiedendogli consiglio e che oltre a farmelo pubblicare da Mondadori mi suggerì anche il titolo di cui ero disperatamente sprovvisto. Perché io con i titoli non mi sono mai cavata bene, anche Dante non sapevamo come intitolarlo, e quindi alla fine quel romanzo con questo titolo immaginifico ed efficacissimo, ecco, il titolo l'ha inventato Aldobusi. E' uno scrittore, è un dialogo, un osmosi interessante. Ho raccontato brevemente alcuni punti della carriera, non certo universitaria, perché sarebbe noiosissimo, interesserebbe soltanto i pochi accademici presenti, ma ho accennato allo strega. Voglio accennare anche al premio Le Goff, un premio da storico, 2012, un premio importante dedicato a Jacques Le Goff, che dopo Marc Bloch e Lefebvre è uno dei grandi storici del Novecento. storico medievale in prevalenza, ma non solo. E poi mi piace ricordarlo anche, me lo sono appuntato, il premio Alassio per la informazione culturale, che aveva avuto nel 2018, due anni fa. Informazione culturale, comunicazione. Ecco, non ti chiedo commento su questo, commentiamo dentro di noi. Un bravo studioso deve essere un bravo comunicatore. ricordatevelo professori, ricordatevelo voi studenti, diventare grandi non vuol dire soltanto accumulare, incorporare sapienza, ma imparare anche a trasmetterla, a raccontarla, a entusiasmare gli altri. Perché con l'entusiasmo in qualche modo, ci vuole anche del rigore con l'entusiasmo, evidentemente, con l'entusiasmo si coglie nel segno un po' più rapidamente. Un'altra domanda, e poi chiudiamo con il discorso sugli storici, parliamo di Dante, che ci brucia qui tra le mani. Allora, gli storici. Lo storico normalmente si occupa di grandi fatti, o anche di piccolissimi dettagli. La staffa del nuovo cavaliere del Medioevo, su cui appunto alcuni degli storici che ho citato con le annalle attirarono l'attenzione, forse è stata più importante l'introduzione di quella staffa che, non so, la scoperta dell'America o qualcosa del genere. Questi boutade che delle volte hanno sconvolto e fatto pensare su cosa vuol dire fare storia. Però mi ha colpito che tu ti sia occupato di Carlo Magno, sicuramente, quindi la fondazione dell'impero, un padre dell'Europa, quindi l'idea attuale che cerchiamo ancora di trasmettere ai giovani. L'Europa nasce proprio con questo grandissimo. L'Ottocento a San Pietro, l'incoronazione, è un atto epocale in tutti i sensi. E poi barbari, immigrati, profughi, deportati nell'impero romano. Cioè sei andato su e giù nei tempi della storia, dal Medioevo, che è la tua disciplina propria, all'antichità, alla modernità. Hai trattato i profughi, i san papie, la gente che scappa, che fugge, l'immigrazione e l'emigrazione già nell'antico. E poi benedette guerre, le crociate, la giad, cioè di nuovo conflitti pesanti tra civiltà, luoghi in cui, come col Titanic, arriva un pezzo di ghiaccio e fa affondare intere civiltà. E poi due cose che mi hanno colpito molto, Waterloo e Caporetto. Ma le sconfitte. Allora gli immigrati, gli emigrati, gli sconfitti, i sommersi e i salvati, direbbe Primo Levi. C'è qualcosa del genere che insegui nella tua ricerca, al di là poi dei punti specifici in cui fai i tuoi affondi. queste grandi sfide della storia a riconoscere anche e dar voce ai sommersi, a quelli che non hanno voce, dar parola e voce a chi non l'ha. Forse mi fai troppo onore. Devo dire che apprezzo molto questo modo di impostare la domanda perché veramente è una ciambella di salvataggio straordinaria per un autore che in realtà poi, uno potrebbe dire, ha scritto soprattutto vite di imperatori. Io ho scritto una vita di Carlo Magno, ho scritto una vita di Costantino. In realtà non è programmatica la cosa per quanto riguarda il dar voce agli uomini. Gli sconfitti è un'altra cosa perché gli sconfitti e gli umili non sono la stessa cosa. Se noi raccontiamo la battaglia di Caporetto, gli sconfitti sono il generale Cadorna, il generale Capello, l'esercito italiano, lo Stato italiano. Il discorso degli immigrati e dei profughi è un altro e nasce da questo. Nasce dal fatto che noi storici diciamo da sempre, da un po' di tempo, siamo molto consapevoli del fatto che il nostro sguardo sul passato è condizionato dai nostri problemi del presente. Questo è inevitabile. Dopo tanto tempo che si è discusso sul fatto che lo storico deve essere oggettivo, può essere oggettivo, poi alla fine abbiamo cominciato a capire lo storico deve essere oggettivo nel senso che se parte a studiare una cosa e si è già fatto un'idea, e succede quasi sempre, badate, eh? E poi incontri i documenti, incontri le fonti che ti dicono ma non è proprio così, ma non quadra mica tanto con quello che tu pensavi, ma guarda che è abbastanza diverso da quello che tu ti eri immaginato. Allora lo storico deve essere oggettivo nel senso che deve avere il coraggio di dire no, effettivamente il modo in cui ho impostato la cosa non funziona mica, è diversa la tentazione di far finta di niente, tanto chi li ha visti quei documenti lì? Conosco solo io. Ecco, però non bisogna, bisogna essere oggettivi in quel senso. Però al tempo stesso, e questa è anche una grande liberazione, noi sappiamo che non saremo mai oggettivi perché io sono uno storico nato nel 1959, io sono uno storico che era bambino nei gloriosi anni 60 e che ha visto gli anni 70 e che sa che non erano solo anni di piombo, erano anche qualcos'altro, se avevi 20 anni allora li vedevi in tutt'altro modo, e poi ha visto quello che abbiamo visto tutti noi fino ad oggi e la mia visione del mondo è condizionata da questo. Questo è inevitabile. Dopodiché puoi provare a farne buon uso nel senso che i fatti che uno studia rimangono quelli. Ma siccome i fatti sono innumerevoli e lo storico sceglie sempre lui di metterne in evidenza alcuni, di sottolineare certi aspetti del passato che stai studiando, allora lei ti rendi conto, certo, un problema storico cruciale che non ha mai smesso di essere discusso, le invasioni barbariche, il crollo dell'impero romano. E tu vai a vedere come veniva interpretato cent'anni fa o centocinquanta anni fa tutto questo in un'Europa dove la forza dominante era il nazionalismo, la patria, la razza. E vedi che i tuoi colleghi di centocinquanta anni fa studiavano le invasioni barbariche e il crollo dell'impero romano e dicono, vedi, certo, la razza, lo scontro eterno fra le razze, la razza germanica e la razza latina, il mondo latino vecchio e i giovani popoli germanici, Darwin, i popoli destinati a scomparire perché sono inadatti e i popoli destinati a trionfare. Questo avevano in mente. E tu oggi ti dici, ma io non ci credo neanche un po' che questa storia sia la storia dello scontro fra le razze e la giovane razza germanica, sono tutte balle. Io invece ci vedo qualcos'altro. A quel punto ovviamente suona un campanello d'allarme. Tu ci vedi qualcos'altro, magari fra cento anni ti prenderanno in giro per questo. Devi stare attento. Devi andare a vedere se quello che ci vedi tu in qualche misura c'era proprio davvero. E allora non puoi dire è la cosa più importante. Però è la cosa più importante per noi. La cosa più importante per noi oggi è dire beh l'impero romano a un certo punto ha cominciato a assorbire immigrati e si è organizzato per assorbire immigrati. E questa non è una una superfettazione nostra. Certo la parola immigrati loro non la usavano. Attenzione. Non usavano neanche la parola profughi. Ma le parole che usavano loro sono compatibili? Sì, sono compatibili. Legentes. I popoli non nostri. Quelli che non sono dei nostri. e l'impero romano per secoli ha fatto venire gente e l'ha integrata si è attrezzato per integrarla ed è diventata una società multietnica e poi a un certo punto questo meccanismo ha cominciato a non funzionare bene e quella che per tanto tempo è stata una risorsa a un certo punto è diventata invece un fattore di squilibrio di destabilizzazione. Queste sono le cose che noi oggi vediamo perché sono le cose che interessano noi oggi anche lo storico di cent'anni fa sapeva che l'impero romano a un certo punto si pone il problema se dare la cittadinanza agli immigrati oppure non darla ma per lo storico di cent'anni fa non era una cosa così interessante mentre per noi è diventato interessantissimo sostanzialmente ecco invece il discorso sulle sconfitte è ancora un'altra cosa ed è legato al fatto che le sconfitte sono le più eccitanti delle vittorie come disse la famosa tennista Billie Jean King in una frase che io ho messo infatti nel mio libro su Caporetto in exergo la vittoria è passeggera la sconfitta è per sempre quello che ti ricordi è la volta che sei stato sconfitto non le volte che hai vinto e al di là di questo poi studiare la reazione di un sistema di un paese di un esercito di una classe dirigente nella vittoria è molto interessante studiare nella sconfitta io lo trovo ancora più appassionante ma io ti seguo benissimo in questa idea ma brevemente ti riferisco un'impressione che ho avuto a Salisburgo in Austria dove un giorno sono andato al museo della guerra non so perché mi sono trovato lì e mi sono trovato davanti a una mappa a una piccola planimetria sulla vittoria di Caporetto ed è stata per me una cosa entusiasmante le persone con cui ero gli amici ancora oggi si ricordano lo sgranamento di occhi ma come la vittoria di Caporetto ed allora penso sapete quelle mappe del mondo viste dalla parte dell'Argentina o dell'Australia in alcuni powerpoint destinati ai licei ne parlo spesso la storia è sempre quella però i punti di vista che consentono di mettere a fuoco che cos'è la verità storica quali sono le verità storiche sono un po' così la vittoria di Caporetto dalla parte degli austriaci contro quei maledetti italiani ribelli con cui combattevano i rumeni i boemi eccetera e quindi c'è sempre un salvato e un sommerso dipende dal punto di vista da cui si guarda e che non vuol dire che l'uno abbia la verità e l'altro no ma insomma senti parlavi delle parole è il momento di entrare in Dante mentre ti ascoltavo mi sono inventato un titoletto non sono proprio bravo come Aldo Busi a inventare titoli e figurarsi anzi anche a me alcuni titoli li hanno proposti gli editori ma aspra vita e guerre proprie di Messer Dante Alighieri Gentiluomo allora è tutta da discutere perché me la sono inventata qua per parodizzarti un poco e parodiare ma ho provato perché aspra è un aggettivo che più dantesco non si può aspra è forte è la selva selvaggia le guerre non altrui perché Dante ha sempre avuto le proprie guerre e siamo già nel tema di che cavaliere e poi Gentiluomo Messer Dante chi avrebbe potuto a Firenze avrebbero fischiato dietro uno che chiamava Messer Dante e tu lo spieghi bene bene tutto questo raccontaci un po' perché non può essere Messer Dante e poi perché ce lo fai entrare questo Gentiluomo perché Gentiluomo è in realtà nobile vediamo che tipo di nobile è Dante Alighieri tu dedichi molte pagine all'inizio sulla nobiltà per Dante e di Dante e poi l'entrata in questo libro dico la verità è emozionante sabato 11 giugno 1289 festa di San Barnaba a Campaldino non lontano da Arezzo ci sono 600 mi pare feditori cioè gente che va a ferire e ci mette la pelle e la faccia e tra questi si cala l'elmo Messer che non è Messer per niente Dante Alighieri per fortuna nostra anzi se riesco a ritrovare la frase la leggo perché è la frase con cui si chiude il primo capitolo ed è bellissima per fortuna Dante era a cavallo ma non cavaliere perché altrimenti avrebbe dovuto sostenere nel tempo anche economicamente il nuovo rango se fosse stato come altri feditori fatto cavaliere quella mattina per fortuna non lo fecero cavaliere non era tra i prescelti se fosse stato armato cavaliere quel mattino il suo destino sarebbe cambiato e noi forse non avremmo la commedia allora ammetterete che è un bel modo per raccontare l'inizio della vita di Dante allora io nello scrivere questo libro ho cercato naturalmente di compenetrare un modo che non fosse eccessivamente banale di cominciare una biografia del tipo è nato sotto il segno dei gemelli è nato sotto il segno dei gemelli e arriva ma è già il terzo capitolo il quarto se Dio vuole ecco è quello che a me come studioso interessa io sono uno studioso di storia militare sono uno studioso di storia medievale in generale ma poi in realtà il frutto maturo delle battaglie con i soldatini giocate da bambino è diventato adesso invece il fatto di studiare seriamente per quanto possibile la storia militare ora Dante tutti noi abbiamo in mente un'immagine di Dante è l'unica che esiste in mille varianti a partire già dal quattordicesimo secolo Dante che era morto è stato rappresentato da gente che non l'aveva mai visto in faccia peraltro quindi in modo immaginario in ogni caso Dante è sempre raffigurato vestito di rosso appunto con la porpora dei laureati e dei poeti e con in testa appunto la laurea cioè la corona dall'oro e non c'è modo di scampare nessuno potrebbe mai riconoscere Dante se non fosse vestito di rosso e con la corona dall'oro io mi ero opposto a mettere Dante sulla copertina del mio libro poi alla fine abbiamo trovato un compromesso come vedete cioè lo mettiamo ma non proprio tutto anche perché in tutti questi ritratti immaginari ha una faccia particolarmente arcigna devo dire e che non suscita simpatia Dante non è mai stato vestito così in vita sua in compenso in vita sua in più occasioni è stato a cavallo con addosso la cotta di maglia di ferro con l'elmo calato sulla testa con la lancia in pugno e la spada al fianco e al braccio sinistro lo scudo con i colori della sua famiglia più volte della sua vita ha fatto questo e non c'è dubbio che gli piaceva farlo perché perché ai cittadini agiati di Firenze veniva chiesto quando c'era la guerra di mettere a disposizione a loro spesa un cavallo da guerra e se volevano lo montavano loro ma se proprio non volevano pagavano un sostituto Dante invece c'è andato c'è andato più volte e anche quando poi l'hanno cacciato da Firenze nei primi tempi del suo esilio lui e gli altri bianchi gli altri guelfi bianchi della sua corrente cacciati in esilio come lui e gli altri vecchi nemici ghibellini in esilio da tanto tempo si sono rimessi insieme e per un po' hanno provato a entrare a Firenze con la forza hanno fatto la guerra a Firenze nei primi mesi nei primi due anni dopo l'esilio di Dante le fonti ci dicono che il Valdarno brucia che sono tutti continuamente a sedi di castelli chiese villaggi bruciati morti ammazzati per colpa dicono i tribunali fiorentini di questi delinquenti dei bianchi e dei ghibellini in esilio uno dei cui capi è Dante è uno dei capi firma dei documenti insieme ad altri leader del gruppo della parte come dicono loro e Dante firma un documento a un certo punto in cui dice noi siamo disposti a fare la pace noi siamo qui a cavallo con le nostre insegne candide da parte dei bianchi e con le nostre spade rosse di sangue solo perché vogliamo ristabilire la pace e la giustizia e la concordia nella nostra città non è solo un modo di dire Dante è uno che è stato a cavallo con la spada rossa di sangue ma chi mai se lo raffigura così io volevo mettere un cavaliere in armatura nella copertina mi hanno detto guarda non va bene il libro di Dante non ci puoi mettere un cavaliere in armatura però almeno ho cominciato con quell'immagine torniamo subito sulle parti bianchi e neri ghibellini le posizioni il messere i nobili ce ne sono cose da dipanare ma io vorrei stare un momento su una delle prime parole della commedia che è anche una delle prime parole del tuo libro ed è paura nel mezzo dei cammini di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta vi era smarrita la prima rima è la vita smarrita ma la seconda rima è oscura paura e tu scrivi aver paura in mezzo ai male branche era umano ma Dante lo abbiamo visto ammette di aver avuto una gran paura anche a Campaldino quel giorno famoso l'11 di giugno del 289 e poi ho ripescato alcuni luoghi ne cito solo uno nel tuo libro me li sono come vedi molto dall'ultima alla prima l'ultima parola fogliettati e dice questo lui come qualsiasi teenager imbranato davanti a Beatrice è in preda al panico molto pauroso è la frase di Dante stesso e cerca di non farsi vedere ma Beatrice incrocia il suo sguardo e lo saluta e incomincia quella storia che sappiamo vita nuova e poi commedia eccetera la paura siamo ancora a un momento su questo sentimento umano troppo umano perché il fatto che Dante abbia paura all'inizio della commedia ce l'abbia per tanti luoghi nella commedia per noi è rimasto sempre un elemento puramente letterario e mi ha molto colpito leggendo il tuo libro invece che ci siano documenti e prove che dicono che si aveva paura perché tu lo dici bene è anche un po' polemico ma anche le sue ragioni professor Barbero i dantisti ignari di come si combattesse davvero una battaglia medievale eccetera eccetera beh sì nessuno di quelli che si occupano di Dante si è mai occupato esattamente di chi sono i feditori di cosa vuol dire stare nei primi 150 e immagino della rissa bestiale che dovesse prodursi quando 5 o 600 persone a cavallo o dei fanti gridando come barbari come il berserker che vestito con la pelle dell'orso nel alto medioevo spaventava gli altri perché era un animale scatenato Dante in questa figura non ce lo vediamo proprio e invece per lui era normale a Dante queste cose interessavano una volta che uno entra in quella prospettiva se percorri l'opera di Dante ci trovi tanti passi da cui viene fuori che lui di queste cose dei cavalli delle armi della cavalleria era appassionato c'è quella lettera dei primi tempi dell'esilio in cui scrive i conti da Romena grande famiglia dell'appennino toscano grandi alleati dei bianchi in esilio e scrive perché non può andare al funerale di uno dei conti che è morto e dice mi dispiace io non posso venire fra l'altro fra l'altro perché sono senza armi e senza cavalli per colpa della povertà imprevista in cui mi ha precipitato l'esilio il vento secco della povertà il vento secco ecco che vapora la povertà e c'è anche un altro passo che devo dire è il mio preferito c'è anche quello in cui dice beh signori però attenzione chi fa un lavoro produce qualcosa deve stare attento agli interessi dell'utilizzatore finale e quindi quelli che fabbricano scudi briglie per cavalli armi spade devono chiedere al cavaliere cosa gli serve questa è una cosa che rimane sempre vera e se chiedessero a noi i tecnici dell'informatica cos'è che serve a noi veramente ecco allora poi c'è il passo invece che veramente io trovo bellissimo che è quello in cui Dante parla dei desideri dei bambini e degli adolescenti come si evolvono i desideri dei bambini e degli adolescenti e lui dice lo sappiamo tutti io non so se parla anche di sé però dice lo sappiamo tutti il bambino piccolo gli fai vedere una mela ed è lì che vuole la mela non pensa nient'altro poi quando è un po' più grandicello vuole l'uccellino e poi comincia a desiderare di essere ben vestito anche lì accompagnano i jeans di marca e la mamma non ti compra i jeans ecco poi vuole il bel vestito e poi desidera a un certo punto della sua vita il giovane comincia a desiderare il cavallo e poi una donna ecco questo percorso il cavallo è una tappa come oggi il motorino o la macchina naturalmente c'è una fase della vita in cui il tuo desiderio è avere il cavallo e Dante vive in quel mondo lì perché è un uomo profondamente medievale perché è un uomo che vive nel suo tempo naturalmente Dante chissà quanti cavalli ha avuto e chissà come si chiamavano e di ognuno di loro si sarà preoccupato in mille modi ne avrà chiacchierato con gli amici l'ho comprato mi è costato ta e noi non sappiamo niente c'è un'infinità di cose anche di un uomo come Dante che ci ha parlato di sé e però quante cose di lui non sappiamo dopodiché appunto armi cavalli guerra cavalleria e sono tutte cose sono tutte cose in cui lui si identifica perché lui appunto finché stava a Firenze governata dal popolo e quindi dagli uomini d'affari dagli imprenditori e dai negozianti e lui stava in quel governo perché gli piaceva fare politica e quindi doveva rispettare quelle regole finché stava lì non è che insista molto sul fatto che lui è nobile anzi in genere scrive poesie per dire che la nobiltà non esiste che la nobiltà di sangue è un'illusione ecco ma quando è in esilio in un ambiente diverso alle corti dei nobili signori allora di colpo scopre che è nobile anche lui è lì che si ricorda che ha il trisnonno cavaliere cacciaguida ecco e lì dice le cose più tremende sul popolo cioè non sui poveracci ma sulla gente che ha fatto i soldi e però rimane ignorante e con cui non si può parlare di niente di interessante perché chi fa un mestiere e sta a bottega da quando è nato non capisce nient'altro ecco bel servitore di un governo di popolo effettivamente queste cose le dice solo quando il governo di popolo l'ha cacciato via prima immagino che si ritenesse per sé questo è un tema su cui torneremo tra qualche momento le contraddizioni di Dante Dante è tutt'altro che un uomo lineare semplice che tiene sempre una sola posizione noi ce lo immaginiamo monumentale come in tutte le piazze Dante d'Italia un monumento aere perennius e invece si scopre nelle biografie di Dante non dimentichiamoci che prima di quelle di Alessandro Barbero c'è stata quella di Giorgio Petrocchi Giorgio Inglese recentemente e tanti altri indizi ho fatto studi molto importanti Marco Sant'Agata Marco Sant'Agata Milani eccetera eccetera torniamo su queste cose se vuoi c'è un poco d'acqua per te stavo adocchiando intanto io prima di tornare alla politica vorrei andare a venire un poco in uno zigzag come nella vita intorno al tema come nella vita mi sto lasciando la qua tosse intorno al tema dell'amore e degli amici ecco perché c'è un capitolo qui il numero 6 che si intitola proprio l'amore e gli amici e tu incominci con Porta San Piero il sesto della città di Firenze nel popolo di Santa Margherita adiacente a quello di San Martino del Vescovo abitava un'altra famiglia che ebbe un'importanza decisivamente nella vita di Dante i Portinari e qui Alessandro Bebero con molta finezza leggerezza e eleganza riprende quel briconcello di Giovanni Boccaccio il quale nel trattatello su Dante inventa una più belle novelle la cento e unesima novella del Decameron è quella che si siano incontrati in casa Portinari il papà di Dante che lo accompagna perché era amico di Folco Portinari e si porta dietro il suo piccolo Dante che aveva circa nove anni e trova lì Beatrice che ne aveva circa otto e mezzo e giocavano insieme come si suol fare tra i pargoli e ora questa idea di un picnic con la Coca Cola e le patatine fritte di Dante che incontra Beatrice solo Boccaccio poteva inventarsi ma quanti filologi sono caduti all'amo per centinaia e addirittura quasi migliaia di anni molte settecento anni fra poco dalla morte e quindi il primo tema è l'amore questa Beatrice non vogliamo essere trasandati e dunque dire che Boccaccio aveva le sue ragioni perché c'è una Beatrice storica mi viene in mente un altro episodio molto divertente che è quello di Benvenuto da Imola il primo grande commentatore circa negli anni di Boccaccio che scrive che esisteva a Firenze una donna molto bella ma virtuosa quel ma è un capolavoro molto bella ma molto virtuosa che si chiamava Beatrice e poi dice però chi non vuole credere con me che Beatrice non sia solo una donna di Firenze ma sia molto di più è inutile non ci discuto neanche dice Benvenuto che era uno di Imola quindi aveva il sciango e il romagnolo e allora dice lasciamo perdere se non siamo d'accordo sui fondamentali allora quindi Beatrice da una parte e poi gli amici perché anche questa storia del primo amico Guido Cavalcanti che ce lo ha raccontato molto bene l'altro ieri mi pare Domenico De Martino è così presente nella trama linguistica della commedia camuffato il possibile intelletto che solo due volte torna nella letteratura italiana Donna me prega e nel 25 del purgatore e poi tante cose però Cavalcanti è dall'altra parte e Dante lo caccia via quando è priore e poi in piazza c'è un capitolo in cui tu parli delle risse e dici che Corso Donati e Cavalcanti erano un po' gentaglia altro che quel insigne dendi splenetico come diceva Contini quindi pieno di spleen che è Guido Cavalcanti il più grande poeta-filosofo di ogni tempo andava in piazza e si picchiava con gli altri bianchi e neri è un'invenzione romanzesca da premio strega o che cosa c'è di vero in questi documenti Alessandro? No, no, no qui non si inventa nulla tutti i documenti autentici tutto autentico credete pure tutto autentico la bottega dei romanzi è dall'altra parte dietro l'angolo e allora che cosa è successo davvero Dante in rissa di piazza non abbiamo documenti di questo ma corso donati e cavalcanti sì no, naturalmente ma dunque teniamo conto che Dante nell'estate dell'anno 1300 è priore i sei priori delle arti sono i sei come dire magistrati che gestiscono dal vertice il comune di Firenze quindi Dante per un certo momento della sua vita è un uomo di potere i sei priori delle arti che si chiamano così perché sono nominati dalle corporazioni dei mestieri e degli affari quindi sono nominati diciamo così dalla confindustria e da confartigianato e confesercenti rappresentano quello strato sociale ed è già una bella cosa perché Dante non ha mai lavorato un giorno in vita sua però il sistema è quello chi comanda è la confindustria e chi vuole fare politica deve piacere a loro Dante per due mesi è priore perché i priori restano in carica soltanto due mesi perché contrariamente a noi allora non importa niente della continuità del governo non hanno affatto questo mantra che abbiamo noi che più a lungo dura un governo meglio è allora non gli importa niente è tutto il contrario vogliono che nessuno accumuli troppo potere quindi i priori restano in carica due mesi poi via nel corso di quei due mesi i priori vivono chiusi dentro la torre della castagna che fra l'altro sta proprio davanti alla casa di Dante e vivono chiusi dentro la torre perché se escono c'è il rischio che qualcuno gli faccia la pelle diciamo che già al tempo in cui Dante è stato priore si erano detti che la torre era un po' strettina e avevano cominciato a costruire un palazzo nuovo che poi ovviamente si chiamerà palazzo vecchio palazzo vecchio di Firenze era in costruzione allora proprio con l'idea che magari ai priori diamo un po' più di spazio ma Dante è priore sta chiuso dentro la torre come gli altri cinque per due mesi perché se esci ci sono in giro i magnati i nobili signori e siccome tu sei il priore di un governo di popolo c'è il rischio che quelli ti facciano la pelle quindi anche se Dante personalmente non avesse partecipato a scontri di piazza nella sua città ha partecipato a battaglie fuori ma in ogni caso il clima era quello quando Dante è priore si trovano a un certo punto nella situazione per cui i consoli delle arti e quindi i vertici del mondo del lavoro del mondo dell'impresa che governano Firenze nel giorno più sacro di tutti cioè la vigilia di San Giovanni Battista patrono della città durante la processione di San Giovanni Battista i consoli delle arti vengono aggrediti e bastonati dai cavalieri i quali sono furibondi contro il popolo degli imprenditori perché loro nobili cavalieri sono stati esclusi dal potere e Dante avrebbe potuto essere lì anche lui a prendersi le bastonate invece non c'era ma poi è uno dei sei priori che devono decidere cosa facciamo adesso la trangugiamo questa cosa per evitare di inasprire inasprire appunto ancora la situazione oppure oppure prendiamo un provvedimento esemplare no prendiamo un provvedimento esemplare fuori in esilio tutti i capi più scalmanati dei magnati e chi sono i magnati più scalmanati facciamo l'elenco Dante ci sarebbe Guido Cavalcanti che ce lo mettiamo e e ce lo mettono e Guido Cavalcanti lo mandano in esilio e in esilio si ammala e muore torna a Firenze appena in tempo per morire ed è Dante che l'ha mandato in esilio Dante che dice il mio primo amico Dante che poi all'inferno incontra suo padre Messer Cavalcante dei Cavalcanti e Messer Cavalcante gli chiede ma come mai Guido non è con te come dire ma eravate così amici eravate sempre insieme e invece Dante quando era al governo ha firmato la condanna all'esilio di Guido Cavalcanti quindi diciamo che fare politica lì poteva voler dire rischiare la pelle poteva voler dire dover andare in giro armati ma voleva anche dire prendersi delle responsabilità insomma su cui si giocava la vita della gente ecco ecco queste sono proprie parole forti chiave io avevo un po' provocatoriamente per lanciare la domanda abbassato il tono mi ha fatto bene ad alzarlo perché di politica e non di risse si tratta di politica allora stiamo ancora un poco su alcune parole politiche tu hai detto i magnati i grandi Cavalcanti uno di quelli i donati corso donati di quelli sono i nobili della città quelli contro cui un non nobile di fatto se non per l'antenato cacciaguida che un pochino si ricorderà che è esistito solo nel 15 16 17 del paradiso ma poi veniamo su quello anche per i cambiamenti di posizione di Dante che lì si vedono bene rispetto a Can Grande però vorrei stare con te sulla parola popolo tu dedichi a questo concetto alcune pagine molto interessanti nel capitolo 10 la politica magnati e popolani leggo una riga il popolo era composto dalla gente che lavorava stava a bottega trafficava e vendeva ed era conosciuta per questo anche molti grandi trafficavano in appalti e in denaro le grandi compagnie bancarie che facevano la potenza internazionale di Firenze erano soprattutto in mano a loro ma non si sporcavano le mani di persona ancora un passo nella pagina seguente politicamente Dante era un popolano sia pure di orientamento moderato incline al compromesso con i grandi e inorridito dalla dittatura della gente da poco che si subiti guadagni questa gente che sale che diventa nobile per finta che si compra la nobiltà Godi Fiorenza ci sono delle invettive Marco Lombardo nel Purgatorio tra insomma nei canti cruciali del Purgatorio vediamo proprio questo in azione questa città che è stata deturpata da una concezione del popolo fallace però che cosa vuol dire esattamente essere popolano essere un bianco guelfo bianco che fa parte del governo del popolo per uno come Dante che invece tutti noi tutti voi ragazzi a casa che leggete la monarchia laddove invece esalta il valore assoluto dell'imperatore come colui che riceve direttamente da Dio il potere perché unum deve essere il potere e all'Italia lo diceva già nel De Vulgare Luquenzia manca una curia unitaria e la curia è frammentata e non essendoci il potere non ci può essere la lingua illustre che solo il potere giustifica e sostiene un bel groviglio di complesse contraddizioni il Dante politico imperialista imperiale quindi imperialista che adora Federico II nel De Vulgare Eloquenzia lo ricordavamo in questi giorni dice che Federico e Manfredi brutalia dedignantes humana secuti sunt come Ulisse per seguire virtù e conoscenza disdegnato la vita da bruti adora il potere unitario dell'impero ma fa parte del governo del popolo per un giovane del 2020 come si spiega questa che a noi oggi può sembrare una contraddizione mi rendo conto che tu sei anche uno specialista di comunicazione storica e se riesci in qualche minuto a spiegarci questo nodo di contraddizioni si spiega intanto perché gli esseri umani sono contradditori noi siamo contradditori tu e io lo sappiamo alla nostra veneranda età a vent'anni non lo sapevamo a vent'anni credevamo che si possa continuare tutta la vita fermi sulle stesse posizioni e disprezzavamo chi eventualmente cambiasse e sono abbastanza sicuro che a vent'anni bisogna essere così tu hai sempre una diecina di anni meno di me per tua fortuna ma vabbè ma dopo il mezzo secolo uno comincia a cambiare ecco allora gli esseri umani sono contraddittori hanno però anche una grandissima capacità di mettersi a posto la coscienza con le proprie quali contraddizioni no no io no semmai sono le condizioni che sono cambiate il mondo che è cambiato ma in realtà noi siamo appunto un groviglio di contraddizioni Dante Dante è un groviglio di contraddizioni perché la sua situazione cambia ci sono anni in cui lui è un cittadino agiato di una città governata dal popolo dove se vuoi contare qualcosa devi accettare le regole e le regole sono devi essere guelfo e devi stare col popolo quando poi è in esilio allora è diverso allora intanto devi venire a patti con altre regole perché se sei ospite di can grande della scala a Verona e lì tutti quelli che incontri sono nobili signori che quando dici popolo arricciano il naso e invece ti parlano dei loro antenati e allora anche tu ti devi adeguare a quello dopodiché magari hai anche cambiato idea effettivamente nel convivio e nella monarchia Dante dice delle cose terribili sul fatto che i governi dei comuni in realtà non sono legittimi che l'unica legittimità è un governo dell'imperatore e che i comuni che pretendono di governare legalmente le città in realtà non hanno nessuna legittimazione ma se avesse detto quelle cose vent'anni prima quando era a Firenze la mettevano in galera giustamente perché lì quelle cose non si potevano e non si dovevano dire Dante poi è uno che come dire conosce bene l'Italia e sa bene che l'Italia è un paese che ha mille teste è un paese di cento città che sono tutte capitali e nessuna delle quali accetterebbe di fare un passo indietro rispetto a un'altra era così allora ed è così anche oggi naturalmente la meraviglia e la stranezza dell'Italia è quella perché se tu vai in qualunque altro paese europeo c'è la capitale e tutto il resto è la provincia ma va un po' a dire uno di Palermo che vive in provincia ecco o di Torino se è per quello quindi quindi Dante a un certo punto vorrebbe che l'Italia fosse come gli altri paesi europei dove c'è il re c'è la corte c'è un centro di potere unico che detta anche legge dal punto di vista della lingua e questa cosa a lui piace e invece l'Italia non è così ecco dopodiché lui invece nella prima parte della sua vita è stato il membro di un comune dove certo nessuno veniva in mente di dire ma noi noi comune di Firenze abbiamo diritto di governare Firenze figurati certo che abbiamo diritto noi siamo noi siamo il popolo e il popolo governa quindi in realtà Dante la contraddizione di Dante è molteplice Dante è un uomo che serve a un governo di popolo e che siede più volte in un consiglio il consiglio dei cento che era un consiglio istituito sull'idea che dovevano farne parte dei cittadini abbastanza ricchi contribuenti con un minimo livello di tassazione perché il consiglio doveva sovregliare la spesa pubblica fondamentalmente e quindi il discorso era quando si spendono i soldi del comune siccome sono i soldi che voi avete pagato con le tasse allora la decisione devono prendere i cittadini che pagano le tasse però questo consiglio era formato da cittadini che pagavano un certo livello di tasse purché fossero dei migliori e più fedeli artefici e plebei dove artefici vuol dire imprenditore iscritto a un'arte dal ciabattino fino all'industriale della lana però uno che comunque lavora e paga le tasse sul suo lavoro e plebei vuol dire plebei cioè in questo consiglio non li vogliamo i nobili signori che non lavorano fondamentalmente quindi Dante è quello quando è a Firenze è un plebeo ora quella non è una società divisa in caste per legge quella è una società dove ogni posizione di prestigio no ci sono le posizioni di prestigio individuali personali io sono stato all'università e mi sono laureato sono un laureato in legge e dunque voi vi toglierete il cappello quando passo ebbene sì avvocato funzionava così e mi chiamerete messere perché i laureati in legge sono talmente pochi e hanno talmente tanta importanza della società e allo stesso modo individualmente se sei stato addobbato cavaliere certo individualmente vuol dire che la famiglia ha dei mezzi e delle ambizioni però il cavaliere sei tu personalmente al di là di queste distinzioni individuali non ci sono le famiglie nobili o non nobili tutti sono dello stesso livello dal punto di vista giuridico certo ci sono quelli che quando incontrano un compatriota e non lo riconoscono Farinata degli Uberti che sente uno che parla in fiorentino poi guarda ma questo non lo conosco e vi ricordate gli chiede tu chi sei ma non gli dice chi sei gli dice come nasci chi fuorli maggior tui perché ha un nobile signore convinto di discendere che Dio lo perdoni da Catilina perché si dice che gli Uberti sostenevano di discendere da Catilina ecco allora chiaramente quando incontri un altro quello che ti interessa sapere è se ha degli antenati oppure non li ha ecco ma queste sono cose private però non hanno una ricaduta pubblica poi è chiaro che la brava gente dice ah quello lì è un Agnelli ecco è un Elcan e allora automaticamente magari ti viene un certo rispetto ma non è una cosa stabilita per legge giuridicamente fino a quando a Firenze il governo di popolo non decide che invece le famiglie che si danno tante arie e che pretendono di discendere da illustri antenati e che da tanto tempo comandano quelle le teniamo fuori dal potere perché sono nemici del popolo però anche lì il criterio giuridico che trovano è di dire avete dei cavalieri in famiglia perché l'antenato non vuol dire niente io posso arrivare a dire il mio trisnonno cacciaguida era cavaliere e come fai a dimostrarlo come facciamo a saperlo invece se lo zio è stato addobbato cavaliere tre anni fa in pubblico davanti a testimoni allora quello si sa quindi avere dei cavalieri in famiglia negli ultimi anni diventa l'unico criterio giuridico per dire certe famiglie sono nemiche del popolo e la famiglia di Dante non fa parte di quelle perché Dante sicuramente in famiglia gli raccontavano da bambino noi avevamo il trisnonno cavaliere non se lo sarà sognato lui ma non lo sapeva nessuno anche perché il nonno il papà gli zii e i cugini facevano un po' gli usurai prestavano denaro trafficavano un poco forse Dante si vergognava anche un pochino di questa posizione o sto esagerando io credo di sì che Dante si vergognasse gli indizi ci sono intanto c'è il fatto che lui quell'attività lì non l'ha voluta continuare il papà e il nonno hanno fatto i soldi negli affari lui l'unica documento che abbiamo è che appena diventato maggiorenne aveva certi affari del papà e lui li ha liquidati ha ceduto i suoi diritti ad altri e poi c'è il fatto che col suo amico Forese Donati che lui sì era nobile nel senso che abbiamo detto cioè una famiglia che da tanto tempo era importante e da tanto tempo aveva dei cavalieri e sapeva fare la guerra ed era abituata a comandare e Dante frequentava gente così suo papà e suo nonno non frequentavano mica gente così Guido Cavalcanti figurati invece lui li frequenta perché è un intellettuale e loro anche e si scambiano sonetti e quindi li frequenta e si danno del tu poi il suo amico Forese Donati a un certo punto c'è la famosa tenzone in cui si scambiano sonetti invettive anche che noi studiavamo anche a scuola senza capirne niente però perché è difficile veramente in effetti capire che loro si facevano questi scherzi cattivissimi pesanti e appunto scambiandosi delle poesie in cui si dicevano le peggio cose e Dante dice a Forese Donati appunto guarda che tua moglie la notte ha freddo perché non la scaldi mica abbastanza lo so che si lamenta che la coperta è corta e che il marito non le tiene caldo ecco e Forese Donati per tutta risposta gli dice si vede che sei figlio di tuo papà ti ricordi quella volta che tuo papà doveva cambiare una moneta e l'hanno fregato ecco appunto il papà di Dante era uno che stava lì a trafficare coi soldi e nel mondo di Forese sono i villani rifatti da poco che fanno queste cose e Dante è il figlio di Alighiero che cambiava soldi e però vorrebbe essere anche l'amico di Forese e poi diventa Dante e questa è la cosa importante cioè che riesce ad attraversare la storia i dati biografici i dati familiari aveva un cognome tu segnali non tutti avevano un cognome in quel momento quindi anche questi dettagli vi segnalo che noi stiamo attraversando in un'oretta circa un libro che è stato costruito su una documentazione fittissima che analizza ex novo cioè con nuove posizioni molti documenti già passati in giudicato e devo dire ci sono molti punti che sarebbero meritevoli sarebbero tutti meritevoli di venire a galla ma i dettagli delle volte contengono non solo il buon Dio ma anche il diavolo invece poco fa tu hai parlato di cambi di posizione e si è evocato cacciaguida siamo nel paradiso siamo nei canti paralleli a quelli di Brunetto Latini il maestro di cui tanto abbiamo parlato in questi giorni perché china la mano alla sua faccia là nel 15 dell'inferno e qui tra il 15 e il 17 del paradiso le stupende simmetrie dantesche dove nelle singole canti che ritornano anche nel 15-16 del purgatorio appunto come diceva Marco Lombardo ritorno ai discorsi sulla crisi della società sui cambiamenti ma io mi fermerei sui misteri di Verona che è di nuovo un titolo alla così alla alla di mano un pochino alla Salgari se vogliamo i misteri della Verona della giungla veronese perché è una giungla effettivamente lì c'è il ghibellino cangrande con tutti i suoi predecessori al bovino della scala e lui il gran lombardo è un'ipotesi che tu avanzi e poi discuti Alberto della scala eccetera ripeto sono alcuni dettagli che chi leggerà questo libro si potrà godere ma io vorrei stare su questo davvero Dante mette in bocca a caccia guida una versione degli avvenimenti così diversa tutti i domandi da quella che la documentazione dello storico permette di restituire la frase è questa il meno che si possa dire che in questo caso spiegherai tu bene quale Dante nel paradiso sta riscrivendo il proprio passato in modo decisamente tendenzioso sottolineo con la voce io perché è così oscurando le oscillazioni e i ripensamenti che avevano preceduto la rottura definitiva con i bianchi non c'è stato il tempo di parlare della battaglia della lastra di Dante che fa parte per sé e lascia i bianchi non diventera mai un ghibellino ma insomma fa parte a sé e concludi che è una reinvenzione per non dire mistificazione del passato è un po' forte questa affermazione difenditi è veramente andata così Dante dico Dante mette in gioco caccia guida cioè il punto più alto della profezia sul futuro che è già stato in Dante e che chi osa quelle cioè completa quegli accenni profetici che Ser Brunetto gli aveva fatto nell'inferno e gli aveva detto che sarebbe stata Beatrice poi invece si vede cambia idea e diventa caccia guida che gli chiosa per Benino il suo futuro ma è veramente un mistificatore un volta gabbana questo Dante uno che addirittura usa il paradiso dico il paradiso per raccontare diversamente i suoi fatti politici dunque premesso però che ogni volta che noi a tanti anni di distanza raccontiamo il nostro passato ormai oggi ne sappiamo abbastanza anche sui meccanismi della memoria per esempio per sapere che la memoria non è un libro che è stato scritto a suo tempo e che tu vai soltanto a rileggere te lo riscrivi continuamente d'accordo dopodiché il nostro problema è che Dante Dante in certi momenti racconta quello che gli è successo lo racconta in modo indiretto come profezia il viaggio nell'oltretomba si svolge nell'anno 1300 a partire dal 25 marzo quasi certamente dell'anno 1300 e la commedia è piena come sapete di indizi che Dante sparge per dire siamo proprio in quei giorni lì è in quei giorni lì che io ho avuto questa visione ho questo sogno e ho fatto questo viaggio allora in quel momento Dante che scrive il paradiso ormai negli ultimi anni della sua vita sa già che dopo quel 1300 ci saranno vent'anni di esilio di peregrinazioni di umiliazioni e anche di speranze di successo e di soddisfazioni perché comunque voglio dire è sempre uno che è stato accolto e ospitato come un grande intellettuale un uomo importante però comunque sempre a spese da altri e sempre un pochino a rischio Dante scrive e immagina che nell'anno 1300 prima che tutto questo succedesse il trisnonno cacciaguida che siccome sta in paradiso conosce il futuro gli anticipa quello che gli capiterà e dunque noi dobbiamo dire quando Dante scrive queste cose 15 o 20 anni dopo sa cosa gli è successo e in bocca al trisnonno lui mette il racconto delle cose che gli sono effettivamente successe peccato che poi noi però dobbiamo far quadrare questo racconto con gli altri elementi di fatto che possediamo sugli spostamenti e le vicende biografiche di Dante e sulle vicende politiche dell'Italia di quel tempo allora provando a riassumerla senza dare nessuna data né niente ma in termini proprio estremamente semplificati cacciaguida dice a Dante litigherai furiosamente con i tuoi compagni di partito con i bianchi cacciati da Firenze insieme a te per un po' starai con loro poi litigherai furiosamente tanto che vorranno farti la pelle anche loro ma tu tu te la caverai e andrai a Verona dove il signore di Verona un gran duomo il gran Lombardo ti farà sentire tutta la sua benevolenza e poi vedrai molto tempo dopo un altro signore di Verona can grande della scala che adesso è ancora un bambinetto adesso nell'anno 1300 della finzione anche lui meglio ancora vedrai ecco benissimo quindi uno dice Dante allora ha litigato con i bianchi e poi è andato a Verona quando uno comincia a mettere insieme quello che noi sappiamo sulla vicenda del partito dei bianchi in esilio sulla partecipazione di Dante alla vita di questo partito perché noi abbiamo dei punti fermi noi abbiamo dei documenti di incontri al vertice fra i bianchi in esilio e i ghibellini in esilio in cui un certo numero di capi del partito firmano questi documenti congiunti e ci sono le firme dei capi dei bianchi fra cui Dante Alighieri e le firme dei capi dei ghibellini tra cui un figlio di Farinata degli Uberti che poi lui presenterà come l'arci nemico intanto firmava documenti con suo figlio si stavano alleando con i ghibellini e abbiamo abbiamo lettere scritte da Dante a nome del partito come di fatto portavoce e segretario del partito dei bianchi in esilio come quella lettera al cardinale d'acqua sparta venuto a pacificare Firenze che citavo prima in cui Dante dice noi siamo d'accordo se ci fai fare la pace con i nostri nemici perché noi abbiamo arrossato di sangue le nostre spade solo per riportare la civiltà la giustizia e la pace e quindi siamo pronti quindi in quel momento nessuna rottura con il partito Cacciaguida gli dirà tu finirai in esilio insieme con una compagnia malvagia e scempia cioè avrai dei compagni malvagi e stupidi con i quali alla fine litigherai furiosamente ma fino a una certa data non ha litigato e poi ha litigato in un certo momento Cacciaguida gli dice poi farai appena in tempo ad allontanarti da loro e quelli lì andranno al disastro e infatti la parte bianca a un certo punto viene totalmente sconfitta quindi Dante ci sta dicendo che se n'è andato da loro prima di questa sconfitta ed è andato a Verona dove il signore di Verona lo ha accolto con la sua grande generosità e benevolenza peccato che il signore di Verona in quel momento era al boino della scala di cui in un'altra sua opera Dante parla malissimo e allora e allora in un'altra sua opera scritta prima è stato a Verona dal boino poi ne parla malissimo poi molti anni dopo mentre scrive il paradiso è di nuovo a Verona dal fratello can grande e dice uh quella prima volta che sono stato a Verona tuo fratello mi ha accolto così bene ecco uno è un po' in imbarazzo a questo punto o meglio si capisce benissimo che uno è costretto però quello che è certo è che non possiamo prendere queste parti della commedia in cui Dante racconta la propria vicenda non possiamo prenderle però l'orcolato perché quando vai a vedere molti conti non tornano senza dire che ovviamente lì siamo nel campo della poesia e quindi c'è anche un valore che non è solo quello documentario storiografico diciamo ma una valenza che va letta all'interno dello sviluppo del poema io però vorrei tornare con te brevemente su due anni l'estate 304 e l'inizio del 306 facciamo un passo un pochino indietro rispetto a dove siamo arrivati poi ci avviamo anche alla conclusione perché c'è quasi un aeroplano che sta rollando a Punta Raisi che tu devi tornare a Roma devi andare a Roma io vorrei stare un momento a Bologna con te perché? perché Bologna è non soltanto l'alma mater degli studi ma perché Mirko Tavoni di recente ha sostenuto un'ipotesi che mi pare interessante anche per te anche se non è provata al 100% ma insomma c'è l'ipotesi che il De Vulgar Eloquenzia sia stato scritto a Bologna per Bologna addirittura e che quel Giovanni del Virgilio che stimolerà Dante negli ultimi anni di vita addirittura dopo la commedia io ho sempre pensato e continuo a pensare che stelle sia l'ultima parola che Dante ha scritto e invece Gabriele Albanese e tanti altri studiosi ci stanno dicendo no guardate ci sono le ecloghe non ce le dimentichiamo in latino cioè lui dopo aver dialogato e persino superato Virgilio sulla lingua volgare tenta di nuovo il latino la lettera di frate Ilero cui tu fai delle belle pagine questo libro è anche pieno di ironia ci sono dei punti per esempio in cui tu dici ma scusate la piccola digressione ma è molto divertente tutti ricorderete che sette canti del inferno erano stati lasciati a Firenze e qualcuno arriva e dice ma lì c'è un baule controlliamo bene perché è stato portato in quel monasterio in quel convento vanno lì e trovano i sette canti dell'inferno Boccaccio il famoso Spurcissimus Dioneus Boccaccio fantasticatore novelliere inventa Gabbane lo racconta e racconta anche che poi altri tredici canti quelli del paradiso che mancavano mancava all'inizio mancava alla fine li trova in un in un sogno gli appare qualcuno e li trova in un muretto ammuffito e commenta Alessandro Dante poveretto doveva vivere in una casa che puzzava di muffa troppo umida evidentemente è un modo per dire fidiamoci dei filologi ma non troppo ecco invece siamo un momento sul serio a Bologna perché lì c'è l'ipotesi che Dante addirittura abbia fatto il professore d'università e Giovanni del Virgilio il quale in realtà è lui che fruisce di Dante perché è lui che diventa professore d'università facendosi fare la lettera di raccomandazione da Dante con le ecloghe e infatti lo assumono subito ci sono anche i documenti cioè Giovanni del Virgilio diventa professore d'università subito dopo aver dialogato in latino con Dante con le ecloghe Dante tu hai detto poco fa un passant non ha mai lavorato in vita sua siamo sicuri? non avrà mai fatto il professore non avrà mai insegnato lui che era anche un grande comunicatore politico tu dici e che probabilmente con Sir Brunetto aveva imparato l'arte di Taminis cioè l'arte dello scrivere lettere politiche come la mettiamo sul rapporto con l'università Parigi eventualmente perché dice Boccaccio è stato anche a Parigi dove ha discusso le questioni quadribetane insomma a te la parola sì dunque il contesto è forse anche la cosa più importante in assoluto che va chiarita è appunto stiamo parlando di anni dell'esilio di Dante durante i quali noi letteralmente non sappiamo dov'era ci sono spesso uno due tre anni consecutivi nel corso dei quali noi non abbiamo la minima idea a tre volte ci sono due tre anni durante i quali sappiamo che è stato un po' con i Marchesi Malaspina o un po' con i Contiguidi ma spesso capita che per un lungo periodo noi non sappiamo dove la cronologia della vita di Dante e anche della creazione delle sue opere dopo la cacciata da Firenze nel 1301 o 2 è quasi interamente ipotetica Dante ha avuto un rapporto con l'Università di Bologna di sicuro non è ben chiaro che impressione gli abbia fatto quasi certamente Dante è andato a studiare a Bologna quando era giovane era giovane ma ben inteso orfano di padre capofamiglia ricco di famiglia poteva fare tutto quello che voleva a lui piaceva studiare gli interessava approfondire la filosofia la retorica e siccome i suoi primi biografi sono sicuri che lui sia andato a Bologna in quegli anni noi diciamo beh non c'è nessun motivo per cui non dovesse andarci anche perché a Bologna ancora quando Dante era giovane prima del suo esilo da Firenze già circolavano suoi sonetti suoi canzoni perché ci sono manoscritti scritti a Bologna in quegli anni in cui qualcuno ha trascritto dei versi di Dante Alighieri quindi diciamo un rapporto con Bologna c'era di sicuro a me viene da dire scherzando che non doveva essere stato un rapporto tanto profondo perché la principale allusione che lui fa a Bologna a un certo punto è sul fatto che quando vai sotto le torri la torre pendente e guardi vedi le nuvole che si muovono ti sembra che la torre ti crolli in testa che è una cosa che abbiamo fatto tutti andando a Bologna a mettersi sotto la torre però è una roba da turisti fondamentalmente poi Dante in generale nei confronti dell'università come istituzione ha dei dubbi non che attacchi l'università in modo diretto però più volte lui lascia capire che l'idea di una persona colta che la sua cultura la vende la usa per vivere ecco a lui gli fa un po' schifo tutto sommato è vero che è ricco di famiglia è facile quando tu non hai questo problema però indubbiamente c'è anche come dire una presa di posizione morale comprensibile cioè la sensazione che gli esperti di diritto di filosofia che danno lezione vendono qualcosa per mantenersi e in qualche modo avviliscono l'altezza del loro insegnamento per il fatto stesso che si fanno pagare e nella commedia ogni tanto c'è anche qualche frecciatina contro quelli che vanno all'università pensando adesso mi mi ingozzo di manuali di diritto e poi almeno farò carriera ecco lui assolutamente ha questo atteggiamento aristocratico diciamo così dopodiché vero è che c'è una canzone di suo figlio Messer Piero in cui Messer Piero fa parlare una delle scienze l'astronomia e le fa fare l'elogio del papà Dante e la scienza l'astronomia parla di Dante dicendo il mio maestro che lesse a Bologna dove leggere vuol dire insegnare avete presente i lettori oggi è confinato in generale l'insegnamento delle lingue la figura del lettore ma il uso del verbo leggere per dire insegnare è arrivato ancora fino a noi quindi se Messer Piero giudice figlio di Dante dice una cosa del genere perché lui che ha studiato a Bologna perché Messer Piero figlio di Dante lui si è laureato a Bologna in diritto e farà una bella carriera di magistrato e se dice questo è perché a lui risulta che il papà a un certo punto a Bologna ha insegnato ed è possibile perché effettivamente ci sono anche alcune fonti che chiamano Dante magister ora non puoi essere sempre sicuro che tutti usino i termini a proposito però in genere del magister si dà a qualcuno che ha compiuto almeno il primo ciclo degli studi universitari e che è autorizzato a insegnare quindi l'ipotesi che Dante in quel momento lì e cioè dopo i primi anni dell'esilio in cui era convinto insieme con gli altri bianchi ci alleiamo con i ghibellini e riprendiamo Firenze con la forza e poi invece è un disastro dopo l'altro e poi arriva il cardinale d'Acquasparta a mettere pace e di nuovo Dante a nome degli altri dice sì noi siamo contentissimi siamo pronti e poi va in rovina anche quel tentativo lì fallisce completamente e allora e allora a quel punto cosa fai litighi con gli altri lì me lo vedo effettivamente che litiga con gli altri perché la gestione del partito è catastrofica e quindi lui li molla a quel punto l'idea che abbia anche detto magari torno a Bologna dove ho degli amici e delle conoscenze dove ho studiato e dove un personaggio come me un grande intellettuale un grande esperto di comunicazione appunto può anche magari sistemarsi io non mi stupirei ecco poi Mirko Tavoni ha argomentato in modo molto in modo molto persuasivo grazie l'idea l'idea che appunto nel convivio nel De Vulgarie Eloquenze ci siano degli indizi del fatto che Dante li ha scritti mentre era a Bologna qui però siamo nel campo tipico sapete degli studi danteschi dove cioè una cosa non può essere detta con certezza e gli studiosi più bravi ti danno quasi l'impressione che sì sì deve essere così deve essere così hai ragione però poi quando vai a rivedere i fondamenti ti dici sì forse è così tu sei stato molto bravo ad argomentarlo ma sicuri non l'ho trattato un po' male questo Giovanni Boccaccio ho detto Spurcissimus Dioneus che è una definizione che lui dava di se stesso un po' un trickster un briconcello però ce n'è un altro l'amico di Boccaccio a cui Boccaccio fa leggere per la prima volta sembra Dante tra i più grandi in assoluto Francesco Petrarca che entra qua dentro ed entra nel tuo libro opportunamente per un episodio che va ricordato soprattutto ai ragazzi che forse non lo conoscono mi pare che sia nei memorandari un libri che lui dice che suo padre una volta da lontano gli disse vedi quel signore laggiù è un grande poeta fiorentino in esilio vado a memoria ma tu lo ricordi molto bene e dici il Petrarca era ancora un bambino a quel che racconta quando ebbe occasione di conoscere Dante si erano trovati in esilio insieme col nonno e il padre di Petrarca Ser Parenzo e Ser Petracco dell'Incisa cacciati da Firenze lo stesso giorno e nella stessa occasione quindi ecco come la storia che è cronaca dei fatti diventa storia grande e siamo ancora qui a parlarne Petrarca incontra Dante e poi fingerà per molto tempo di non averlo mai conosciuto di non saperne niente e Boccaccio gli scriverà delle lettere bellissime gli offrirà in omaggio un libro il 3199 della Vaticana una commedia glielo manderà il comune di Firenze con tutti i salamelecchi possibili e Petrarca dirà sempre molto interessante non lo conoscevo ma poi invece si scopre da anni lo leggeva con probabilmente una anxiety of influence chissà e tu aggiungi che c'era una strettissima amicizia fra esiliati anche perché avevano gli stessi gusti poi però Ser Petracco che teneva famiglia un piccolo esempio di questa ironia che vibra sempre nella tua prosa si era rassegnato all'esilio e si era concentrato sui suoi affari e invece Dante aveva continuato la lotta ecco questo incontro a distanza ravvicinata per poi una finzione per tutta la vita quasi Petracco non l'avevano mai incontrato o quasi insomma l'incontro fra questi tre grandi due che si incontrano davvero Dante e Petracco attraverso il nonno e il papà esiliati dalla stessa parte di Dante e Boccaccio che poi lo scopre oramai giovinetto lo scopre quando è a Napoli nel 1328 dagli angioini i terribilmente maltrattati da Dante che però invece adorano Dante è una struttura tu hai incominciato i tuoi studi sulla cultura angioina fra l'altro e sarebbe molto interessante anzi ti inviterò a un convegno che organizzeremo con la normale proprio su questo verrebbe interessante vedere quanto Roberto D'Angio abbia poi recuperato Dante proprio attraverso Boccaccio e Petrarca capendo nell'altezza di ingegno nonostante nella commedia si maltrattasse lui come re da sermoni e i suoi antenati ecco allora una parola su questo nodo stupendo che sembra quasi il destino ci abbia regalato Petrarca che incontra da piccolo Dante Boccaccio che non lo incontra mai e che però poi insegnerà Petrarca a leggere la commedia io intanto direi naturalmente tu hai esordito dicendo un episodio che probabilmente i ragazzi non conoscono ragazzi non lo conoscevo neanche io prima di fare le ricerche per questo libro sia chiaro quindi siete tutti scusati dopodiché sì no quello che è affascinante è vedere il passo del cambiamento culturale nell'Italia di quell'epoca mentre invece come dire le strutture sociali economiche politiche cambiano anche loro ma con un altro passo molto più lentamente se uno studia se uno studia la vicenda di queste persone stritolate nella politica e nella guerra del loro tempo e allora vedi comunque vedi delle continuità perché stai attento a quello che la gente deve fare per vivere e naturalmente allora vedi certo il papà di Petrarca è appena un po' più è un po' più giovane di Dante ma di poco e sono gente che rimane presa nelle lotte di partito nella Firenze di fine 200 inizio 300 e cacciati in esilio e a quel punto dovranno tutti imparare a campare in qualche modo e Dante ospite di gran signori riuscirà poi a sistemare i suoi figli facendogli avere dei benefici ecclesiastici dei canonicati delle rendite che ottieni se pur essendo in esilio però sei un personaggio conosciuto che ha le amicizie giuste e anche Ser Petraco penserà al futuro di suo figlio Francesco e anche Francesco si sistema grazie a benefici ecclesiastici e canonicati e anche Boccaccio in fondo vive di quello e nel frattempo i re e i principi e i nobili con cui loro hanno a che fare e i comuni con cui loro hanno a che fare continuano la loro vita i loro rapporti politici le loro alleanze le loro guerre però queste stesse persone che sono immerse in quel mondo e devono vivere secondo le sue regole stanno vivendo una loro avventura intellettuale e l'avventura intellettuale li porta in un'altra dimensione li porta in una dimensione in cui dialogano come potrebbero dialogare come Machiavelli dialogava con gli antichi nel momento in cui mi chiudo nel mio studio non mi importa più niente né del re di Napoli né della battaglia di Montecatini ma penso a qual è la lingua in cui bisogna scrivere poesia in futuro ecco e lì c'è un passaggio generazionale netto perché Dante come dire è il grado zero Dante è uno che scrive versi in italiano dicendo non è da molto che si scrivono versi in italiano una volta i poeti scrivevano solo in latino e adesso da un po' di tempo sono comparsi questi non sa neanche se chiamarli poeti o poete alla latina questi poete volgari lui sente di essere membro di una generazione che sta scoprendo qualcosa Boccaccio e Petrarca sono già quelli a cui viene chiesto di studiare quello che hanno fatto quelli della generazione precedente Boccaccio è uno a cui il comune di Firenze dà l'incarico di tenere un corso di lezioni sulla Divina Commedia quindi lì veramente appunto la fama enorme di Dante fa di lui un oggetto di studio e fa di lui l'uomo di cui un sacco di gente dopo che è morto dirà io lo conoscevo io lo incontravo anzi eravamo amicissimi Boccaccio nel fare ricerche per la sua vita di Dante ne incontra di questi che gli dicono il suo migliore amico certo appunto e Petrarca probabilmente invece uscilla un po' di più perché da un lato sarà vero sicuramente insomma che quando lui era bambino l'ambiente degli esiliati da Firenze in certi casi ha permesso di incontrarsi al papà di Petrarca Ser Petracco e a Dante non credo che se lo sia inventato anzi proprio per il fatto che altre volte preferisce non parlarne sarà sicuramente vero ma lui era un bambino e dopo che si ricorda e dopo che ricostruisce insomma era Dante quello lì quando si rende conto che quello lì era Dante allora effettivamente deve decidere un po' e Petrarca mentre Boccaccio che è un uomo tutto sommato più modesto intellettualmente è contentissimo di essere il grande esperto di Dante Petrarca invece è uno che bene o male ha realizzato quello che Dante non aveva realizzato Dante per tutta la vita ha sperato di arrivare all'incoronazione poetica in Campidoglio con qualche sovrano del mondo cristiano che gli mettesse in testa no veramente Dante non voleva farlo in Campidoglio voleva farlo a Firenze voleva tornare a Firenze e lì è l'incoronato poeta ecco certo e invece Petrarca Petrarca c'è riuscito ad avere la grande incoronazione poetica pubblica in Campidoglio con il re Roberto che lo incorona di alloro questo vuol dire sei un intellettuale che tutto il mondo conosce e acclama e Petrarca è questo e siccome sei di una generazione più giovane di Dante una generazione e mezza perché già il papà di Petrarca era un po' più giovane di Dante dice lui e vivi in un mondo dove mentre come dicevo prima la politica l'economia seguono i loro ritmi però la cultura sta cambiando rapidamente e cambiando la cultura gli intellettuali della generazione di Petrarca cominciano già a dire sì grandissimo Dante però il latino lo sappiamo meglio noi e dopo tutto quindi sono già un po' divisi fra l'ammirazione obbligatoria e il senso che loro stanno aprendo delle strade nuove anche rispetto a Dante e su questo evidentemente cari ragazzi a casa si apre un infinito discorso e poiché io seguo l'orologio e sento sempre a Punta Raisi il rombo dell'aeroplano invito invece i presenti ma anche gli assenti anzi soprattutto gli assenti nella voce di Marilena Larosa che invito ad accostarsi qua al microfono e a leggere eventualmente alcune delle domande che in circa 3.000 ho visto contatti hanno da porti quante ne prendiamo 4-5 e chiediamo fulmineità nella domanda e nella risposta Marilena direi una domanda e poi rispondo perché se no memoria non riesco a ricordare esattamente assolutamente così attua il microfono bene purtroppo il tempo spinge veramente lo so lo so ma io l'orologio ce l'ho davanti agli occhi sì allora intanto sintetizzo abbiamo chiesto un commento delle domande ai tanti che ci stanno seguendo e la prima risposta è stata dichiarata al professore Barbera il nostro amore quindi questo è molto dantesco è bello questo amor che muove il sole e le altre stelle e il Barbero che muove anche l'oratorio di San Salvatore bellissimo attraverso Dante allora ne faccio una ne scelgo alcune mi scuseranno perché ho fatto una selezione molto veloce la prima domanda la fa il Dino Puleio Dante più volte tesse un elogio pieno della corte sveva della Sicilia sveva e della città di Palermo che cambiato il regime si ribella agli angioini col vestro qual è la sua opinione sugli svevi e sul modo in cui Dante tratta gli svevi ma qui diciamo non parlerei degli imperi al plurale per il mondo di Dante esiste un impero ed è l'impero romano esiste un impero perché fin dal tempo di Costantino il mondo cristiano si è strutturato intorno all'idea che c'è un solo Dio in cielo e c'è un solo sovrano sulla terra per molto tempo no per un po' di tempo e in certi momenti questo è stato vero al tempo di Costantino era vero se uno prescinde dal piccolo dettaglio che l'impero romano non domina proprio tutto il mondo ma loro di quello che non faceva parte del loro impero non importava niente beh loro potevano davvero dire un Dio in cielo e un imperatore sulla terra tutta la storia del Medioevo e anche dell'età moderna in realtà dal punto di vista politico è basata sul contrasto fra questo ideale di un potere universale e la realtà concreta degli interessi locali ora io mi ricordo benissimo che quando noi andavamo a scuola questa cosa del potere universale era sentita proprio come un vecchiume cioè questi poveri medievali si attardavano con questa idea di un potere universale forse noi nel nostro mondo di oggi nella nostra Europa di oggi possiamo capire meglio cosa vuol dire essere lacerati fra il dire ma io voglio appartenere all'Europa o voglio appartenere alla città di Firenze tutti i miei interessi sono qui tutti i miei amici sono qui perché devo prendere ordini da Bruxelles perché a Bruxelles risiede un principio superiore una razionalità superiore quindi in realtà noi oggi secondo me possiamo capire molto meglio cosa voleva dire per loro questo dramma di dover capire se era giusto lo sviluppo che un po' dappertutto si era affermato nei fatti si era affermato le autonomie locali o se invece bisognava continuare a lottare per dire no questa roba è vero che attualmente prevale ma non ha nessun fondamento legittimo è uno schifo ci dovrebbe essere un unico potere che ci tiene insieme tutti questo è il giudizio di Dante sull'impero lo dice quando è in esilio perché lo dice nella monarchia e perché ha cambiato idea perché quando era guelfo non poteva pensarlo io non credo perché in realtà noi semplifichiamo troppo quando diciamo i guelfi vogliono il papa e i ghibellini vogliono l'imperatore in realtà il mondo cristiano era basato dal tempo di Costantino e poi di nuovo dal tempo di Carlo Magno sull'idea che ci devono essere il papa e l'imperatore e devono andare d'accordo quindi secondo me era perfettamente possibile essere guelfi e quindi desiderare che la chiesa romana avesse un ruolo decisivo senza per questo voler distruggere l'impero e quindi Dante a un certo punto a un certo punto si rende conto che nell'Italia in cui lui è vissuto il difetto principale non sta nel fatto che la chiesa sia troppo debole fin troppo forte sta nel fatto che è l'impero e l'altra metà che è troppo debole ecco senti non ti esprimerò il mio amore ma la mia ammirazione per come hai sintetizzato questo problema difficilissimo e centrale riportandolo all'oggi all'Europa di oggi e il significato della parola unum nella monarchia di Dante quello è il vero problema grazie seconda domanda allora un giovanissimo studente le chiede se potesse fare a Dante una sola domanda quale sarebbe? allora vi dirò questo io non sarei mai all'altezza di discutere di filosofia o di teologia con Dante nessuno di noi sarebbe in grado di discutere con un intellettuale di quell'epoca perché avevano un livello di ragionamento di complessità di ragionamento che per noi è completamente irraggiungibile io alla fine gli chiederei un chiarimento su una cosa di cui non abbiamo parlato stasera ma che è la più impellente delle curiosità sui misteri della vita di Dante e cioè ma è vero che ti sei sposato a 12 anni perché noi abbiamo un documento in copia dubbio che riporta la data del matrimonio di Dante a un momento in cui li aveva a 12 anni e questa cosa nessuno l'ha mai messa seriamente in discussione perché c'è un po' l'idea che nel medioevo capitava di tutto ecco invece non è vero non capitava di tutto ci poteva essere una promessa di matrimonio tra due famiglie che si impegnavano a far sposare due bambini ma lì il documento parla della celebrazione del matrimonio io non ci credo che Dante sia sposato da 12 anni bisogna supporre che il notario si sia confuso abbia sbagliato la data però finché sei lì che dici bisogna supporre e il dubbio e il dubbio ti rimane ecco quindi gli chiederai quanto anni aveva quando si è sposato così riscriverebbe capitolo ottavo un matrimonio misterioso con gemma di manetto donati allora io farei l'ultima domanda il microfono è spento però devi stare vicina è spento non so comunque glielo ridanno appena comincia allora le farei l'ultima domanda da parte del professore Puleio del liceo classico Umberto I di Palermo l'esilio determina in Dante una svolta fondamentale nella sua concezione del mondo delle idee della storia Firenze diventa la perfida Noverca e Dante si avvicina alla tesi dei Ghibellini a suo avviso questo avvicinarsi alle tesi dei Ghibellini che sono cosa ben diversa dalle opinioni dei Guelfi Bianchi è in qualche modo il frutto di un atteggiamento polemico verso la sua città vista con disillusione e quindi con distanza di stacco e avversione o ci sono altre motivazioni ma professore io direi questo noi dobbiamo avere chiaro che quei partiti appunto erano sì ideologici per le necessità della comunicazione e della propaganda erano ideologici nel momento in cui era necessario trovare i propri referenti nelle altre città e quindi ci si trovava d'accordo sul fatto che noi il nostro grido di guerra è San Pietro e siamo Guelfi ma erano anche confederazioni trasversali fluide continuamente modificabili in base all'interesse quindi io direi che Dante è stato Guelfo perché è vissuto in una Firenze dove bisognava essere Guelfi non c'era discussione i Ghibellini a Firenze non c'erano più parlare di Ghibellini della Firenze di Dante era come parlare dei comunisti in America una volta c'erano adesso non ci sono più però c'era il partito Guelfo che vigilava sull'ortodossia dei concittadini e faceva le liste di quelli sospetti di essere un po' troppo filo Ghibellini quindi bisognava essere Guelfi e io credo che Dante sia stato Guelfo nel senso più profondo del termine e cioè gli Uberti sono nostri nemici i Lamberti sono nostri nemici gli Ubaldini del Mugello sono nostri nemici perché sono due raggruppamenti di alleati contrapposti gli uni agli altri il che non toglie che poi quando Dante va in esilio appunto gli può capitare di sedere allo stesso tavolo con quegli stessi nemici ma qui l'ha detto molto bene il nostro amico Marco Sant'Agata la politica è l'arte del possibile quando mai in politica siccome ieri hai detto peste corna di qualcuno allora domani non ti puoi sedere a un tavolo con lui ma figuriamoci puoi benissimo sederti allo stesso tavolo anche con i nemici altro è il discorso ideologico ma appunto mi fa piacere chiarire quello che ho accennato prima io credo che quando Dante nella monarchia esalta l'importanza di un principio monarchico e quando in altre opere più volte parla appunto degli illustri eroi Federico e Manfredi o quando nella commedia dimostra chiaramente che a lui Carlo D'Angiò braccio armato del partito Guelfo sta molto antipatico e invece Manfredi il nemico braccio armato del partito Ghibellino gli fa una grande simpatia ecco io non credo che questo voglia dire che Dante che Dante ha smesso di essere Guelfo ed è diventato Ghibellino in apparenza è così e la propaganda del regime Fiorentino diceva così appena i Guelfi bianchi in esilio cominciano a negoziare anche con i Ghibellini per una possibile alleanza a Firenze tutti si affannano a dire vedi che sono amici dei Ghibellini ma io non credo che Dante in cuor suo abbia mai pensato di essere come dice il Foscolo un Ghibellin Dante è sempre stato un Guelfo che vedeva il partito Guelfo a modo suo e che avrebbe voluto che i Guelfi rispettassero l'imperatore oltre che il Papa era normale così come c'erano dei cardinali Ghibellini e perfino dei Papi filo Ghibellini e allo stesso modo è chiaro che ci potevano essere dei Guelfi ai quali l'idea dell'impero andava benissimo grazie anche di questa bellissima risposta perché ho trovato la pagina in cui tu lo dici i partiti erano diventati aggregazioni trasversali mai più attuale di oggi dove la stessa categoria di partito si sta sfaldando e ci sono aggregazioni in cui l'ideologia conta molto meno che invece come tu dici l'adesione alla fede conta meno che la convenienza del momento quindi effettivamente un Guelfo poteva entusiasmarsi per Federico e Manfredi come c'erano ai vertici di Santa Madre Chiesa cardinali Ghibellini insomma ripensare anche queste opposizioni frontali Juventus Torino quella non si tocca lo sapevo non ti voglio chiedere neanche da quale dei due lati ti trovi non dal lato dei tuoi calzini non dal lato dei miei calzini terribile questa scoperta che ho fatto adesso da vecchio Juventin fuggiasco ex torinese esiliato a Roma bene avevamo promesso che alle 5 e mezza avremmo lasciato libero di ripetire il nostro carissimo professore Alessandro Barbero forse Esther o Giorgia ce l'avete il coraggio di prendere la parola superando la naturale timidezza dei 17 e dei 14 anni lo so che mi odierete per tutta la vita perché davanti a due o tre mila persone no non ce l'avrete mai fatela questa cosa avete il professor Barbero qua poi invece dovete scrivergli delle mail dei twitter delle robe così va bene il vostro silenzio vuol dire che siete piene di grandi cose ascoltate io vorrei però chiudere su questo Alessandro profeta Dante mi sono segnato due cose bellissime Dante profeta in quegli anni e nella lettera all'imperatore il tono profetico è così pervasivo che se ne accorse anche il villani secondo cui Dante rivolse i suoi rimproveri a Enrico quasi profetizzando e sono anche le ultime parole del tuo libro dove tu dici Dante deve essere morto nelle prime ore della notte fra il 13 e il 14 di settembre del 1321 l'anno prossimo ricorrerà il settecentesimo quella notte chiudi il profeta andò a scoprire se quanto aveva immaginato in tutti quegli anni era vero perché è così importante per te la parola profeta al di là del fatto che Geremia era un personaggio importante per la sua vita per la sua commedia ma secondo te c'era in lui una percezione di poter veramente perforare i tempi arrivando a noi come diceva Osip Mandestam su una nave che attraversa l'oceano incrostata di tutte le sedimentazioni che il tempo gli ha appiccicato addosso ma dunque Mandestam grande studioso di Dante fra l'altro come tutti i grandi poeti come Anna Akhmatova Anna Akhmatova la quale quando qualcuno le chiese ma lei legge Dante rispose io non faccio altro che leggere Dante ecco e sto parlando di uno dei più grandi poeti del novecento allora io devo dire una cosa che quando si tratta non delle vicende biografiche di Dante che lo storico prova a ricostruire come potrebbe provare a ricostruire le vicende biografiche del suo vicino di casa cioè di qualunque essere umano vissuto allora e che abbia lasciato qualche traccia quando si tratta invece dell'interpretazione dell'anima e dell'opera di Dante io qui mi muovo largamente al seguito dell'enorme lavoro che i nostri colleghi italianisti e dantisti hanno fatto per generazioni e sono loro che sanno meglio di me come si può oggi provare a interpretare certi aspetti dell'attività di Dante ed è tra gli studiosi dell'opera di Dante che da un po' di anni si è affermata questa tendenza a chiedersi se in Dante non ci sia proprio una vena profetica la vena profetica che va collocata ovviamente nel contesto della sua cultura Dante è un uomo che come molti intellettuali della sua epoca conosce la scrittura a memoria conosce la Bibbia a memoria è in grado di citarla ogni volta che gli serve e cita con particolare piacere i libri profetici Isaia e soprattutto Geremia hanno un ruolo importante nella visione del mondo di Dante voi capite cos'è la Bibbia per loro la Bibbia per loro non è soltanto un'opera straordinaria come è anche per noi perché è interessantissima la Bibbia per loro è davvero un'interpretazione del mondo dentro la Bibbia tu trovi riflesso tutto quello che accade al mondo e che ti potrà anche accadere in futuro e dunque tu nella Bibbia continuamente vedi rispecchiata la tua esperienza al punto che Dante scrive nel mezzo del cammino di nostra vita ho fatto il mio viaggio all'inferno e nell'oltretomba e non tutti sempre sottolineano il fatto che il profeta Isaia a un certo punto dice alla metà della mia vita me ne andrò alle porte dell'inferno verso che Dante ovviamente conosceva e che ovviamente condiziona il celeberrimo primo verso della commedia Dante cita più volte il profeta Geremia lo cita almeno in un caso identificandosi con lui in un modo impressionante li abbiamo ancora 30 secondi per raccontare questa storia che è veramente incredibile incredibile soprattutto come testimonianza di come lavora Dante il profeta Geremia da qualche parte dice che a lui è capitato in un momento in cui stava denunciando la corruzione dei sacerdoti gli è capitato di spezzare un vaso o dei vasi io adesso non mi ricordo il contesto ma aveva a che fare con qualcosa di simbolico lui in presenza dei sacerdoti il profeta spezza questi vasi e Dante a un certo punto racconta a me è capitato nel battistero di Firenze le racconta in un momento in cui sta criticando violentemente la corruzione dei sacerdoti e racconta un episodio della sua vita mi è capitato una volta nel battistero di Firenze di spezzare un vaso che era un vaso di quelli riempiti di acqua di acqua santa per i battesimi e c'era un bambino che era caduto dentro e stava affogando e io ho spezzato questo vaso e lo dico qui perché tutti sappiano cosa vuol dire da sempre i commentatori si sono rotti la testa ecco appunto cosa vuol dire perché nessuno aveva ben chiaro cosa diavolo intendesse dire Dante con tutto questo e però poi qualcuno ha detto attenzione però il profeta Geremia e Dante lo conosceva il profeta Geremia si lo cita spesso Geremia è quello che dice lamentati città desolata e abbandonata e Dante lo cita a proposito di Firenze quando è morta Beatrice e poi lo cita di nuovo a proposito di Roma perché il papa se n'è andato e è andato a Davignone quindi Dante col profeta Geremia ha un rapporto stretto così possibile che non sapesse che anche il profeta Geremia proprio mentre criticava la corruzione dei sacerdoti ha spezzato un vaso poi uno va a vedere il profeta Geremia racconta questa cosa nel capitolo 19 del suo libro Dante racconta questa cosa nel canto 19 del purgatorio allora a quel punto anche se sono solo indizi uno dice no è così non si può non crederci Dante ci sta dicendo che lui in quel momento si sta identificando col profeta c'è poco da fare e quindi io sono andato dietro con una certa fiducia a quella corrente di studi che da tempo ci dice Dante Dante a un certo punto ha avuto la sensazione di avere davvero anche lui il ruolo di un profeta non per noi posteri forse per quanto anche questo gli interessava perché il suo maestro Brunetto Agliatini gli aveva insegnato proprio che l'uomo sia eterna scrivendo cose che anche fra mille anni continueranno a leggere certo però poi lui profeta soprattutto per il suo mondo che come ogni uomo in ogni epoca percepisce come corrotto in modo vergognoso e bisognoso di risanamento Alessandro Bebero grazie infinite di questa tenace forte piena di energia come sempre sei tu stancante e quindi te ne tornerai a Roma con un volo pieno anche speriamo di bei ricordi di questa Palermo piena di immagini colma di e colma soprattutto di questo spirito che lo vedi in alto in alto lassù Pippo Lomanto che dietro alla sua faccia sempre timida riservata continua a dire abbiamo fatto bene invitare il professor Berbero a parlare del suo Dante lo volevamo da tempo e se abbiamo aperto con la battaglia di Campaldino e con la paura mi è tornato in memoria che credo che ci siamo incontrati anche con queste Pippo evidentemente che dice che abbiamo segnato il tempo massimo e dicevo che questa storia del paura e del coraggio pubblica pubblicava il mito della paura e del coraggio e credo che fosse quel fascicolo della rivista che pubblicava gli atti di Bagni di Lucca dove ci siamo incontrati allora anche nel piccolo delle nostre biografie eccoci ricongiunti con questa carezza che abbiamo voluto portare a Marilena La Rosa alla professoressa Sacco Messineo a tutti quelli che hanno collaborato a organizzare queste bellissime giornate e soprattutto al nostro caro Pippo che credo che sia molto contento come lo siamo tutti noi e come lo siete voi ragazzi a casa leggetevi questo Dante e imparate che aspra vita e guerre proprie di Messer Dante Alighieri gentiluomo fiorentino di nascita ma non di costumi può essere contemporaneamente una bellissima pagina di letteratura e una profonda autentica severa pagina di storia un applauso propongo al professor Barbero grazie 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 a tutti notate che sono le 17 e 30 minuti l'ora che avevamo deciso sarebbe tornato a grazie carlado grazie mille grazie grazie